Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 a Teramo. Torna la paura dopo la scossa di terremoto di ieri pomeriggio, scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a 22 km dall'Aquila. La popolazione è fortemente stressata e già da domani un gruppo di psicologi raggiungeranno i comuni di Cortino, Crognaleto, Campli e Tossicia per prestare volontariamente la loro opera professionale. Intanto dopo l'esposto presentato da un gruppo di genitori parte l'indagine della Procura della Repubblica per omissione di lavori sulle scuole Teramane, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Lo avevano promesso i genitori della scuola elementare Noè Lucidi di Teramo il giorno della riapertura dell'edificio scolastico dopo il terremoto del 30 ottobre. Quella crepa sul solaio del secondo piano nonostante i lavori di consolidamento proprio non ci doveva essere. E così è partito l'esposto alla Procura di Teramo ed oggi il fascicolo è sul tavolo del pubblico ministero Davide Rosati. Si indaga per omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, un'indagine che si allargerà a macchia d'olio su tutte le altre scuole teramane per verificare come e dove sono stati eseguiti i lavori antisismici dagli enti pubblici. Inutile dire che la popolazione vive uno stress senza pari dopo l'ultima scossa di ieri sera, 29 novembre, registrata alle 17.14 di magnitudo 4.4 con epicentro a Capitignano, 22 km a nord-ovest dell'Aquila. L'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo, in collaborazione con il Dipartimento di Psichiatria dell'Asla di Teramo, ha messo in campo un gruppo di volontari pronti a supportare psicologicamente i cittadini terremotati. Da domani almeno 50 professionisti presteranno la propria opera nei comuni di Cortino, Campli, Crognaleto e Tossicia. Anche l'amministrazione comunale di Teramo vorrebbe creare uno sportello di ascolto per sostenere le persone scioccate dal sisma. Anche l'ultimo report del comune non ha migliori notizie da comunicare. 12 sono state ieri le ordinanze di sgombero emesse dal sindaco Brucchi che hanno coinvolto 29 famiglie. Gli edifici inagibili si trovano a Via Campana, Nepezzano, Forcella e Villa Stanchieri e mancano ancora oltre 3.000 verifiche da effettuare. La cronaca a distanza di qualche settimana, ieri nel corso di un apposito servizio, i carabinieri della compagnia di Pescara hanno rimanuto delle armi in alcune aree comuni delle palazzine di Via Tavo. Le indagini non sono concluse e ci sarebbe un sospettato. Ancora un ritrovamento di armi e munizioni in alcune pertinenze delle palazzine di Via Tavo nel quartiere Rancitelli del ferro di cavallo di Pescara dove già nelle settimane scorse i carabinieri della compagnia adriatica avevano rinvenuto un revolvere delle cartucce. Il materiale è stato posto sotto sequestro e ora verrà analizzato dagli esperti del RIS per risalire ad eventuali impronte. Gli inquirenti sarebbero inoltre questa volta anche sulle tracce di un sospetto. Maggiore Scarponi ancora un ritrovamento di armi, ancora una volta in Via Tavo nella zona del ferro di cavallo, non è stato un ritrovamento casuale? Casuale è difficile perché c'è sempre dietro tanto lavoro sia quando i servizi danno esito positivo come questa volta e come pochi giorni fa sia quando i servizi a volte non danno l'esito positivo. Il nostro obiettivo è quello di monitorare e mettere pressione alle persone che delinquono e andare a tutelare, far sentire la presenza dello Stato, la nostra vicinanza a tutti i residenti onesti, le tante persone che abitano in questi luoghi non sempre facili. Andavate alla ricerca probabilmente di droga, avete trovato delle armi, ma questa volta, a differenza di due settimane fa quando avevate rinvenuto anche altre armi e munizioni, ci sarebbe anche un sospettato? Allora, al momento non abbiamo un nome, siamo convinti di dare un nome e un cognome al proprietario delle armi rinvenute questa volta e delle armi rinvenute pochi giorni fa. Stiamo cercando di stringere il cerchio, ma è ancora presto per farlo. Si può parlare di allarme sociale alla luce del ritrovamento di poche ore fa? No, non è allarme. A mio avviso queste due operazioni testimoniano la capacità operativa dell'arma dei carabinieri di togliere degli strumenti di morte. Un'istanza presentata dagli avvocati dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi fa slittare al 6 giugno prossimo la discussione e la sentenza del procedimento che vede imputati lo stesso Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni oltre che due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali accusati a vario titolo di falso, violenza privata e abuso d'ufficio i legali dell'ex governatore, i terramani Pietro Referza e Enrico Mazzarelli si sono avvalsi del DL che sospende le attività processuali per le persone residenti nell'area del cratere individuata dal governo in seguito alle ultime scosse di terremoto il GUP Gianluca Sarandrea ha fissato la prossima udienza nella prima data utile successiva alla scadenza dei termini della sospensione prevista per il 31 maggio lo slittamento non incide sui tempi della prescrizione Cambiamo argomento Concessioni De Magnali all'asta l'introduzione della direttiva Bolkestein tanto temuta dai balneatori italiani non potrà essere prorogata al 2020 come richiesto dopo tanti appelli dalle istituzioni e dai balneatori italiani questa mattina a Pescara associazioni di categoria e rappresentanti della politica si sono riuniti per chiedere un intervento da parte del governo Francesca Romana Testi Direttiva Bolkestein di nuovo al centro dell'attenzione dopo la bocciatura della proroga richiesta dall'Italia con data 2020 il caso è quello dei balneatori che vedranno messe all'asta le concessioni demaniali che per generazioni hanno costituito l'unico patrimonio per interi nuclei Noi oggi siamo riuniti qui grazie al sindacato italiano dei balneari la Sib di Riccardo Padovano per quanto riguarda quello regionale a discutere di una proposta di legge che abbiamo fatto che ho presentato pochi giorni fa affinché nel more che il governo nazionale stabilisca il nuovo regolamento la nuova legge sul demanio marittimo si affidi alle regioni le competenze principali quelle secondarie ai comuni la possibilità che i balneatori avendo la possibilità avendo avuto anche sul codice della navigazione la possibilità di avere il prolungamento della concessione la possibilità di un reggio di 6 a 20 anni la possibilità di dare continuità all'attività lavorativa altrimenti rischieremo di trovarci anche con nessun stabilimento balneare la prossima estate L'Italia ha inventato il turismo balneare è stata per anni leader mondiale del turismo balneare e questa peculiarità non viene riconosciuta dall'Europa ma noi non chiediamo di uscire fuori dalle regole chiediamo di muoverci all'interno delle regole europee con delle certezze cioè anche il diritto europeo riconosce a noi dei diritti tutti quanti dimenticano che all'interno dei doveri che ci vengono in qualche modo richiesti ci sono dei diritti e noi chiediamo che vengano fatti valere questi diritti Siglato ieri pomeriggio nel palazzo di città a Pescara l'accordo per il passaggio dell'ex caserma di Cocco al comune di Pescara il protocollo segna il via alla riqualificazione di Porta Nuova e apre alla costruzione della cittadella della cultura a servizio del polo universitario Un progetto così significativo cioè quello di avere una cittadella universitaria nella nostra città che possa, se ho capito bene essere collocato in uno spazio molto circoscritto diventa ovviamente una prospettiva talmente interessante che noi che diciamo ovviamente per le funzioni che ci servono ci dato la mano ne troviamo una collocazione ma questo spazio è uno spazio di atto La ex caserma di Cocco diventerà una cittadella della cultura a disposizione degli studenti dell'università Gabriele D'Annunzio grazie all'accordo sottoscritto dal comune di Pescara dalla regione Abruzzo dall'Agenzia Nazionale del Demanio e dal Ministero della Difesa È una spinta che io ho voluto dare forte all'amministrazione della difesa perché da un lato edifici che a noi non servono più è anche sbagliato tenerli dal punto di vista delle risorse che alla difesa devono servire per altro nello stesso tempo è fondamentale renderli disponibili alle comunità quando ci sono progetti interessanti come questo della comune di Pescara che sta immaginando di ampliare il proprio polo culturale La firma via Uniter destinato a cambiare il volto di Pescara Porta Nuova iscrivendosi all'interno di un progetto più ampio che prevede il trasferimento da via Lepindaro del comando provinciale dei Vigili del Fuoco Nessuno naturalmente pensa di fare tutto questo ambaradan per consentire il gioco delle carte che è pure una questione importante e ludica ma per creare spazi che siano a servizio di quella che ci piace definire l'economia della conoscenza L'operazione che dovremmo fare è di prendere in consegna la caserma di Cocco stimarne il valore definitivo e quindi fare la stessa cosa per i beni che metterà a disposizione il comune in modo tale che vi sia un'equivalenza di valori a quel punto potrà avvenire la permuta ufficialmente In arrivo nuove tasse per l'assistenza sociosanitaria i consiglieri regionali di Forza Italia tornano a parlare del nuovo piano approvato dalla Regione che impone con partecipazione nella spesa delle famiglie anche con basso reddito Con partecipazione nella spesa sanitaria nuovi costi per i cittadini abruzzesi con familiari bisognosi di cure e assistenza Forza Italia torna a parlare del nuovo piano sociosanitario che prevede soglie ISEE basse e con partecipazione nella spesa fino all'80% per le famiglie con basso reddito Una tassa in più sulle prestazioni sanitarie fuori da Elea e sui servizi sociali e socioassistenziali che i comuni erogano cioè devono pagare qualcosa che prima con noi non veniva pagato Dopo due anni e mezzo la Giunta approva delle soglie ISEE avendo la competenza solo per un minimo e un massimo e lasciando libero arbitro ai comuni che se ce ne sono di virtuosi possono calibrare i carichi su chi più ha come giusto e sgravare chi meno ha la Quinta Commissione boccia la organizzazione delle soglie ISEE prodotte dall'assessorato che usa un escamotage perché il parere dove sarà dato in 20 giorni e sarà dato in 23 giorni e riapprova le soglie ISEE come sono a cui i comuni dovranno essere obbligati altrimenti non vedranno trasferirsi i fondi regionali per erogare i servizi sociosanitari Un atteggiamento di prevaricazione denuncia Forza Italia che spiega come la Regione abbia imposto cifre precise ai comuni quando invece avrebbe dovuto solo indicare una forchetta di minimi e massimi In realtà i comuni avrebbero diritto nell'ambito di un minimo ed un massimo stabilito dalla Regione di potersi regolamentare in base alla volontà che i sindaci hanno rispetto ai propri amministrati I comuni oggi sono soffocati dall'assenza dei trasferimenti di risorse della Regione Siamo arrivati a novembre del 2016 attendono da dieci mesi di poter capire cosa devono scrivere nel loro bilancio E' chiaro che accetteranno qualsiasi cosa gli daranno pur sapendo che la Regione li sta obbligando a fare gli esattori dei cittadini in difficoltà delle proprie città benché non ne ha competenze Il 22 dicembre del 2010 moriva Filomena degli Castelli una donna considerata tra i più illustri personaggi della scena abruzzese fu la prima a diventare componente dell'Assemblea costituente nel 46 a sei anni dalla sua scomparsa questa mattina è stata intitolata una sala a suo nome nel palazzo della Regione a Pescara in Viale Bovio Fu l'unica donna abruzzese a diventare membro dell'Assemblea costituente era il 1946 Filomena degli Castelli insegnante successivamente rappresentante della politica nata a città Sant'Angelo nel 1916 dopo una lunga carriera si è spenta nel dicembre del 2010 L'Abruzzo la ricorda tra le personalità di spicco della sua Regione ed oggi con una cerimonia a lei dedicata le intitola una sala nella sede del palazzo della Regione di Pescara alla presenza di istituzioni e giovani studenti legate alla sua storia Lei è una testimonianza forte per i nostri ragazzi è la testimonianza di una donna che ha dedicato la sua vita al bene comune il suo ABC era agire per il bene comune Oggi si parla di introduzione di Quote Rosa pensando alla figura di Filomena degli Castelli la donna non era riconosciuta come qualcosa di estranea alla politica oppure lei era riuscita a dare un'immagine diversa? Ma lei certamente era riuscita dove altre non sono riuscite perché è accaduto allora ed accade ancora oggi che chi ha la possibilità chi ha i mezzi economici per organizzarsi riesce ugualmente ci sono delle donne molto brave che però non hanno la possibilità di provvedere alla propria organizzazione della casa della famiglia e quindi in questo caso deve intervenire lo Stato con le politiche di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro e poi in questo momento è importante che si intervenga anche per riservare delle quote alle donne che altrimenti rimangono indietro e noi non riusciamo a recuperarlo a questo ritardo culturale che abbiamo da questa mattina è bloccata la linea ferroviaria Sulmona-Pescara a causa di un guasto alla linea elettrica aerea a provocare il guasto il treno partito da Sulmona alle ore 6.45 che tra le stazioni di Manopello e Chiedi ha agganciato un cavo dell'alta tensione causando l'interruzione di energia elettrica sull'intera linea sono in corso lavori per ripristinare il funzionamento della linea stessa che secondo le previsioni dei tecnici che stanno operando dovrebbe tornare in funzione nel pomeriggio Trinitalia ha attivato da subito bus sostitutivi per coprire la tratta sono circa 700 i lavoratori del team impiegati in Abruzzo ieri pomeriggio a Pescara così come all'Aquila le maestranze e i rappresentanti sindacali hanno indetto uno sciopero preoccupati dai tagli occupazionali ventilati dal nuovo management Quali sono i motivi di questa protesta? Questa protesta nasce dalla disdetta da parte della dirigenza aziendale di team del contratto di secondo livello il contratto aziendale che determina sicuramente determinerà un taglio secco dei diritti e dei salari di questi lavoratori il fatto più grave in assoluto è che questa azienda e questi lavoratori ormai sono al settimo anno di applicazione dei contratti di solidarietà e quindi fanno ricorso ormai da lungo tempo di ammortizzatori sociali questa azienda vuole competere sulla riduzione dei costi senza dare prospettive occupazionali senza in qualche modo dare la possibilità di continuare alla forza lavoro compreso ovviamente quella che è oggi in Abruzzo voi siete preoccupati perché nel tempo ci potrebbero essere degli esuberi numericamente molto rilevanti sì sì noi siamo preoccupati perché il piano è la politica che sta portando questo nuovo amministratore delegato in telecom è soltanto di tagli parla di tagliare un miliardo e 600 milioni e non si parla di un piano industriale di rilancio di sviluppo per l'azienda quindi siamo preoccupati per il futuro di tutti i lavoratori telecomitali oltre ad aver dato una disdetta di tutti gli accordi aziendali quindi riportare indietro tutta la contrattazione tutti i diritti acquisiti a 50 anni indietro sì noi lottiamo per i nostri diritti per il nostro posto di lavoro e per la nostra azienda soprattutto questa azienda che nel 1999 contava circa 120 mila dipendenti oggi è stata decurtata di 90 mila persone siamo 45 mila dipendenti attualmente in forza e con il contratto di secondo livello che è stato disdetto vogliono ridurci il nostro salario il nostro lavoro e la nostra azienda venerdì prossimo 2 dicembre al Parco della Scienza di Teramo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo flusso di coscienza il protagonista sarà un ragazzo disabile che racconterà attraverso una storia la realtà vissuta ogni giorno da tante persone malate e dalle loro famiglie l'iniziativa di sensibilizzazione è stata organizzata dall'associazione Abil Bite e dalla corale Laus Perennis di Colle Parco portare la disabilità in scena per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi quotidiani di tante persone malate e delle loro famiglie sarà questo l'argomento trattato dalla pièce teatrale dal titolo flusso di coscienza rappresentata il 2 dicembre alle ore 21 al Parco della Scienza di Teramo l'attore protagonista sarà davvero un ragazzo disabile e la regge di Alberto Anello al Parco della Corale Laus Perennis di Colle Parco lo spettacolo racconta la storia di un ragazzo disabile che riesce e vuol far capire quali sono le problematiche e come vive un ragazzo disabile cioè lontano dal mondo e vuole cercare di esprimere attraverso questo spettacolo le sue sensazioni i suoi pensieri i suoi desideri le sue sensazioni i suoi bisogni questo ragazzo e questo spettacolo è stato ideato da un ragazzo disabile Manolo Pelusi che è poi presidente dell'associazione Abil Bait che ha lo scopo di creare un volontariato per la fornitura di ausili informatici per queste persone che hanno difficoltà sia a parlare sia a muoversi sia a nutrirsi Lo spettacolo teatrale sulla disabilità a flusso di coscienza ha incassato anche la collaborazione dell'assessorato al welfare del comune di Teramo che fa un punto sull'abbattimento delle barriere architettoniche in città Stiamo cercando di far sì che siano sempre di meno sarei bugiarda nel dire che sono state abbattute tutte si deve ancora lavorare anche a livello burocratico abbiamo in animo di portare nei prossimi giorni la delibera per la nomina del disability manager insomma questa figura che all'interno del comune dovrà occuparsi della messa a norma delle strutture o comunque di seguire la parte amministrativa burocratica delle pratiche e insomma cercheremo piano piano di venire incontro a quelli che sono gli interessi primari dei cittadini soprattutto di quelli che hanno più bisogno e ora andiamo all'Aquila dove si parla del ripristino delle strisce blu il servizio di Giorgio Alessandri per alcuni una rivoluzione per altri un segno di ritorno alla normalità il ripristino delle strisce blu e dei parcheggi a pagamento annunciato dal sindaco Cialente è sicuramente una scelta destinata a far discutere già perché 642 staglie a pagamento non interesseranno solo il centro storico ma anche numerose strade attigue da via Ale Corrado IV a via Castello da via Pescara a via Strinella arterie stradale dove oggi è impossibile o quasi parcheggiare dopo l'ingresso dei dipendenti negli uffici vero ma è altrettanto vero che sarà necessario trovare una soluzione per chi in quelle aree lavora o è tornato a vivere sicuramente per il sindaco sarà un modo per favorire il ricambio di auto e aiutare il commercio in centro non capisco quelli del centro storico di destinamento in particolare i commercianti e nel sud questi posti come vedrete non sono al centro storico sono soprattutto intorno agli attrattori di traffico quindi se l'88 il tribunale e altre zone perché? perché sono zone in cui un cittadino non può andare se io oggi devo andare a fare una radiografia nel 88 devo andare alla banca devo andare alla CNA devo portare il nipotino al controllo dal pediatra eccetera ma alle 10 e mezza si trova un parcheggio intorno nel 88 manco a pagarlo devi andare alla questura e rifare un passaporto sei perduto deve arrivare ma manco alla Coppa forse alla Coppa il Torione riesce a parcheggiare lì allora come si risolve in tutte le città? si risolve attraverso le aree a sosta a pagamento e una piccola quota con le aree a disco orario previsti anche 41 posti per disabili 40 a disco orario e 504 liberi e strisce bianche ma ciò che dovrebbe cambiare radicalmente le abitudini degli aquilani sarà il servizio navetta messo a disposizione dall'AMA ovviamente in questa fase sarà sicuramente sperimentale perché bisogna capire bene la viabilità che può percorrere per noi sarebbe la partenza parcheggio di Collemaggio percorrenza via Collemaggio poi penetrazioni in corso Federico II via San Bernardino via Zara via Castello Fondare Minosa e di nuovo il giro che riscende per ricongiungersi è chiaro tutto questo è un atto dovuto se così si può dire laddove si crea un discorso ovviamente di parcheggio di parcheggio a pagamento e bisogna dare un'alternativa a chi ha interesse a venire nel centro storico l'amministrazione comunale di Pescara ha presentato questa mattina il progetto di riqualificazione del parco dell'infanzia grazie ad una sinergia con la Caritas Diocesana vogliamo celebrare la gioia vogliamo avere un approccio positivo per la vita e questa cosa ce l'hanno insegnata tutte le persone che noi andiamo ad assistere dove noi andiamo a fare volontariato in ospedale e nei vari ambiti gli anziani i centri anziani loro ci hanno insegnato che si può vivere la sofferenza il disagio e momenti di difficoltà con la gioia e la positività quindi abbiamo voluto organizzare questo festival in occasione dei nostri dieci anni di attività qui abbiamo alcuni dei nostri volontari e abbiamo invitato delle persone che ci potessero trasmettere questo tra cui Simona Azzori che verrà il 3 dicembre alle 15 al Flaiano e ci parlerà della sua vita del modo in cui lei con la gioia è riuscita ad affrontare e a rendere la sua vita una meraviglia e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti il venerdì 2 dicembre alle 18 faremo l'inaugurazione con un pittore presso l'Aurum che ha fatto tutta una serie di opere artistiche sue proprio per la gioia e poi il sabato sera oltre a Lazzori il sabato sera sempre al Flaiano ci sarà una serata meravigliosa di allegria condotta da Federico Perrotta e con tanti artisti che vengono grazie a mente e la domenica tutto il giorno all'Aurum tra workshop laboratori spazio bambini quindi chi ha i bambini può venire può portarli e poi tavola rotonda finale e momenti di festeggiamento Apriamo ora la pagina dello sport sarà un Pescara con tante seconde linee quello che sfiderà il tardo pomeriggio alle 18 l'Atalanta a Bergamo per il turno di Team Cup in Paglio c'è il passaggio alla partita successiva nella quale la vincente se la vedrà con la Juventus a gennaio Convocato Ray Manai dopo l'esclusione per motivi disciplinari per la gara di campionato di Roma di domenica scorsa in attacco però Oddo dovrebbe schierare Pettinari con lo sostegno di Muric e Mitriza l'allenatore del Pescara ha parlato così alla vigilia del match non nascondiamoci dietro a qualcosa che non esiste è normale che in questo momento per noi la partita di domenica è qualcosa di fondamentale però non possiamo neanche permetterci di andare a giocare o a fare un allenamento a Bergamo noi andiamo a Bergamo cercando di avere l'intelligenza di gestire anche un pochino i ragazzi di mandare in campo anche chi dare una possibilità anche ai ragazzi che hanno fatto che hanno giocato di meno tenendo presente che dobbiamo andare a Bergamo a fare la nostra partita poi ovvio che già siamo pochi se pensiamo di mettere in campo tutti quelli che hanno giocato scorsa settimana che dovranno giocare la prossima settimana andremo sicuramente in difficoltà quindi spazio anche a molti ragazzi che hanno giocato di meno anche Muric sì che avranno una possibilità e queste sono le possibilità in cui si deve dimostrare oltre che parlare prima e dire che si vuole giocare domani c'è una possibilità ce l'avranno soprattutto quelli che hanno giocato di meno e lì dovranno dimostrare senza gli alibi vorrei difendere un po' quello che è stato attaccato cioè lo staff medico la maggior parte degli infortuni sono dovuti a o traumi o a livello muscolare di giocatori che hanno sempre avuto problemi vedi Campagnaro vedi Coda e vedi anche Baybeck Baybeck stava benissimo la partita in cui lo staff mi ha detto non metterlo in campo perché rischi era quella precedente poi Baybeck ha fatto una settimana di pieno lavoro mille scatti al giorno non ha mai avuto niente poi se entra in campo e dopo due minuti si fa male e clinicamente lui stava benissimo e atleticamente ha fatto tutti i allenamenti quello non puoi non puoi preventivarlo Baybeck evidentemente è fragile muscolarmente bisogna andare cercare di andare un pochino più a fondo l'anno scorso non ha avuto problemi di tipo muscolare ha avuto altri tipi di problemi e quest'anno sta avendo problemi di tipo muscolare andremo a fondo a questa vicenda per cercare di aiutare anche il ragazzo a migliorarsi sotto questo punto di vista dopo mesi di silenzio è tornato a parlare l'ex direttore generale del Pescara Giorgio Repetto in una intervista concessa al messaggero non sono un leccapiedi per restare avrei dovuto essere un uomo a personalità zero ed era un prezzo troppo alto ha dichiarato Repetto a gennaio ho cominciato a vedere movimenti di procuratori e di esse nell'ufficio di Sebastiani e ho capito il problema principale è che nel Pescara comandano i procuratori hanno assunto un peso abnorme alla fine ero accerchiato e sono stato insofferente davanti a questa situazione la cosa che mi ha dato più fastidio è avere creduto alla parola d'onore di una persona credo di essere l'unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata questo è un estratto della più ampia intervista rilasciata a Pierpaolo Marchetti del messaggero e ora scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo è altamente improbabile che gli attaccanti Croce e Jefferson possano essere a disposizione per la trasferta di domenica a Forlì da valutare invece Bulevardi potrebbe ambire ad una maglia da titolare invece il centrocampista Carraro che ha lanciato buoni segnali in Coppa Italia e nello spezzone di gara giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono state dette tante cose vere non vere non voglio entrare adesso nei dettagli dell'infortunio eccetera però veramente ho passato due mesi brutti anche perché poi da quando è nata mia figlia non ho mai giocato quindi è stato ancora più brutto per quello perché era nata quindi avevo proprio voglia anche di giocare per lei eccetera quindi sono stati due mesi difficili lo staff io non posso giudicarlo perché non sono un dottore io in questi due mesi ho avuto un po' di difficoltà con l'infortunio ma perché c'è stato un po' di di confusione ora ora sto bene devo trovare adesso la condizione migliore e spero di dare il mio apporto nel miglior modo possibile alla squadra visto che ne ha bisogno questa è una scelta che aspetta aspetta al mister però io ancora non sono al 100% sicuramente della condizione però diciamo che sono pronto perché pensavo di stare peggio pensavo di stare peggio fisicamente invece in Coppa Italia ho fatto 70 minuti e mi sentiva abbastanza bene sarebbe sarebbe un bel sogno sogno momentaneo perché rientrare da titolare dopo tanto tempo magari fare il gol della vittoria sarebbe bellissimo però l'importante è vincere perché adesso non ci sono più le parole le portano via il vento adesso bisogna fare i punti e secondo me queste due partite sono decisive per il proseguo del nostro campionato se facciamo sei punti in queste due partite tante cose poi andranno meglio Maurizio per conoscere la sua nuova squadra essendo la 1 donna e ferma per una lunga sosta si tornerà infatti in vasca dopo il Natale è tutto per questa prima edizione del TG6 grazie per l'attenzione buon proseguimento di giornata grazie per l'attenzione